Uno straordinario percorso attraverso 50 ritratti fotografici di personaggi del calibro di Andy Warlow, Umberto Eco, Miuccia Prada e tanti altri. È la mostra Anima, Pensiero, Creatività attraverso l'obiettivo di Maria Mulas, che si aprirà sabato 18 novembre ad Arezzo in Palazzo Chianini Vincenzi. L'immagine di Maria Mulas c'è tutto dentro, anche dal titolo che ho dato, c'è Anima, Pensiero, Creatività e soprattutto l'attento occhio esperto di una grande fotografa, fatta le prime 30 nel mondo, quindi ci si può trovare di tutto e di più in questi giochi di luce che fa, senza usare luce artificiale, ma naturale, sui volti dei suoi personaggi. Grazie alla collaborazione con il Lions Club Arezzo Chimera sarà dedicato a Maria Mulas anche un esclusivo fuori mostra. Fino al 7 gennaio, infatti, le facciate di alcuni palazzi di Saione saranno abbellite con le gigantografie delle foto della Mulas in modo da formare un percorso Wall Saione. Molto importante sarà questo progetto per la valorizzazione del quartiere di Saione, curato dall'architetto Giuliana Frangipane insieme a Lions Club. È un progetto bellissimo, innovativo, proprio per valorizzare questo quartiere che ultimamente ha avuto delle difficoltà. È una collezione molto particolare perché è intitolata I borghesi sono altri, quindi trova una collocazione all'interno del quartiere veramente calzante e interessante. Inizierà dalla galleria di Via Vittorio Veneto, quindi ci sarà un banner espositivo nel quale troveremo indicate tutte le postazioni nella mappa e potremo trovare, abbiamo poi dei pieghevoli che ci guidano e quindi seguire queste dieci tappe che sono tappe artistiche.